Salve amici e benvenuti anche oggi per un nuovo video. Torniamo a parlare di Diablo 4 e della stagione numero 5. Infatti anche nel sito ufficiale di Blizzard sono uscite nuove informazioni. Ed è uscito anche il nome ufficiale della stagione numero 5, ovvero la stagione delle Orde Infernali. Un nome molto fantasioso dato che l'attività principale che verrà introdotta in questa nuova stagione ma anche nel Reame Eterno è proprio quella delle Orde Infernali. Wow! Comunque la stagione partirà il 6 agosto questa cosa già si sapeva però adesso si sa anche l'orario cioè le 19 che non è una grande sorpresa quasi sempre si parte o si paccia alle 19 o le 18 più o meno orario europeo italiano e però abbiamo anche un altro po' di informazioni. In realtà per chi avesse seguito anche informazioni sul PTR che c'era stato il mese scorso probabilmente non avrà particolari sorprese però ci sono stati degli aggiornamenti anche rispetto a quel PTR. In tutto questo c'è anche stato un video che è uscito proprio ieri ufficiale di Diablo 4 in inglese con i sottotitoli anche in italiano se volete che fa un piccolo riassunto una decina di minuti però in realtà qua ci sono tutte le informazioni. Quindi le cose più importanti quali sono? Cosa c'è di nuovo in questa stagione numero 5 che durerà solamente due mesi ve lo ricordo è una stagione più corta non dura tre mesi dura due mesi perché poi si deve allineare l'uscita dell'espansione Vessel of Hatred che sarà in realtà poi ai primi di agosto quindi solo due mesi. Ma comunque ci sono cose nuove da scoprire e non sono neanche tutte qui perché poi ci sarà un campfire il primo agosto cioè domani fondamentalmente domani sera ci daranno altre informazioni ripeteranno certe cose ma immagino daranno anche nuove informazioni. Ma le cose più importanti secondo me sono qui quindi la nuova attività che appunta questa cosa delle orde infernali che sarà sia nel reame eterno che nella stagione quindi così come in realtà praticamente nelle ultime due stagioni la nuova cosa della stagione più importante a livello subito nel reame eterno. In questo caso le orde infernali banalmente sono sorta di survival mode ci arriveremo però tramite una quest di stagione se parliamo della stagione però a conti fatti sarà fondamentalmente uno stanzone dell'inferno dove arriveranno tantissimi nemici e noi dovremo ucciderli costantemente con delle ondate. Con però un twist ovvero tra una ondata e l'altra noi guadagneremo queste offerte infernali e poi tra un'ondata e l'altra potremo scegliere dei buff ma anche dei debuff che ci arriveranno per l'ondata successiva. Se riusciamo a pulire tutto e avere tante di queste offerte infernali alla fine potremo scegliere tra delle casse i nostri premi che potremo aprire però spendendo queste offerte infernali quindi più siamo efficienti e bravi e anche più è l'alto il livello di difficoltà più avremo premi importanti. Infatti qui ci dicono lettere bruciato che è la risorsa di questa nuova attività che noi dobbiamo collezionare e per poi arrivare alle boss fight finali che saranno cose comunque nuove perché alle fine di queste boss fight ci saranno i membri del concilio infernale che sono cose che comunque ci ricordano anche Diablo 2. Infatti c'è un ovvio riferimento dato che comunque anche l'espansione nuova che arriverà sarà principalmente basata su Mephisto e poi quello che era stato l'atto terzo di Diablo 2, praticamente siamo negli stessi posti, c'è ovviamente un collegamento. Quindi c'è questo concilio decaduto che è comunque una rimembranza di Diablo 2. Per accedere a questa nuova attività noi dovremo comunque trovare delle bussole infernali che rispetto al PTR adesso sarà più facile trovare. Le potremo sia craftare che trovare in numerose attività che di solito facciamo come Nightmare Dungeon oppure Maree Infernali. Infatti qua ci dice che la chiave per sbloccare le orde infernali sono queste bussole. Queste chiavi diaboliche scano dal grado 1 al grado 8 possono essere create presso l'occultista con la polvere di sigillo e anime dimenticate. Però le possiamo ottenere anche aprendo doni torturati e dei misteri dell'acciaio vivente nonché uccidendo i forieri di sventura nella Maree Infernali. Insomma sarà abbastanza semplice. Più o meno qualsiasi cosa faremo, troveremo queste bussole e a seconda ovviamente del tir di difficoltà in cui siamo potremo fare cose sempre più difficili, avere bussole più difficili per aprire varchi e ondate sempre più difficili. Il grado massimo sarà l'8. Qui c'è un riferimento appunto ai sacerdoti decaduti di questo concilio dell'odio, sempre riferito a Mephisto e a Diablo 2, che sarà il nostro nemico principale a livello di boss fight. Praticamente saranno delle combinazioni di tre boss con vari poteri e quindi saranno sempre un pochino diverse e portano un po' diventata fresca almeno di nemici rispetto al solito. Diciamo che i nemici nuovi non ce ne sono stati tantissimi questo anno di Diablo 4. Tutta questa attività di cui ho parlato adesso c'è anche nel retame eterno subito. La cosa invece è che solamente a livello stagionale saranno le brecce infernali, praticamente dei dungeon ridotti con alcune meccaniche simili a quelle delle orde infernali e queste però saranno presenti solamente nella stagione numero 5. In tutto questo ci sarà comunque un aggiornamento importante dell'oggettistica, quindi 59 oggetti unici e leggendari degni degli inferi, ovviamente skin nuove, ma anche un rifacimento delle statistiche di tutti gli unici e anche degli uber unici, quindi comunque ci saranno cose abbastanza nuove e sicuramente molte build saranno completamente diverse rispetto alle stagioni precedenti proprio perché hanno ricambiato molte statistiche. Tra l'altro ci sono stati molti rumors ancora non confermati su anche modifiche importanti che ci saranno poi quando uscirà la patch a ottobre insieme all'espansione. Ci potrebbe essere un calo del cap del livello, ci potrebbe essere un calo anche dei danni generali perché rifaranno tutte le statistiche. Sono cose un po' ancora non confermate però ci sarà comunque un certo stravolgimento tra questa stagione e la prossima stagione. All'interno comunque di questa stagione 5, oltre a quindi queste due attività nuove, ci sarà anche la bacheca che ormai c'è praticamente in ogni stagione con delle missioni, con delle task da fare che ci permetterà comunque di fare ancora più XP, più oggetti, più risorse e per andare più velocemente perché chiaramente in stagione iniziamo delle lo zero con un nuovo personaggio, però vi assicuro che ormai ogni stagione che passa è sempre più facile fare il 100 e infatti hanno cambiato anche delle cose sulle XP che andiamo a vedere a breve. Praticamente fare il 100 credo che ci vorranno meno di 8-10 ore, molto probabilmente, sarà molto veloce fare il 100 nella stagione nuova. Qui hanno fatto uno schemino per farci capire appunto la progressione sia della stagione che nel reame eterno, quindi per quanto riguarda la stagione dovremo comunque fare la quest stagionale, sarà importante, sarà obbligatoria praticamente se vogliamo fare le nuove attività, perché arrivati poi al world tier 3 potremmo cominciare a fare e continuare la quest stagionale che ci porterà a sbloccare sia le orde infernali che tutte le altre attività di stagione, quindi a questo giro la quest stagionale è assolutamente super necessaria, bisogna farla per forza. Per quanto riguarda il reame eterno invece, per giocare alle orde infernali basterà essere tier 3, quindi aver sbloccato almeno il tier 3, e anche lì comunque fare questa questline. La motivazione molto probabilmente, questa è una mia idea, è che questa questline comunque ci approccia a poi quello che sarà la storyline della espansione, che ovviamente non è che la gente sarà da comprare per forza, però a livello di storia, progressione di storia, è importante e conseguenziale. Quindi a livello di lore ovviamente devono agganciare in qualche modo quello che succede adesso, quello che succederà con l'espansione Vessel of Hatred, che di fatto aggiunge un atto in più alla storia principale di Diablo 4. Quindi ci saranno una serie di missioni stagionali che bisognerà fare, ci sarà questa bacheca e ovviamente ci sarà anche il Battle Pass con tutte le solite missioni, che praticamente è sempre lo stesso, non cambia mai niente, o quasi, che ci darà comunque altri premi. In tutto questo ci sono stati anche degli aggiornamenti poi alla Marene Infernare e anche gli oggetti leggendari e quant'altro, perché ci sono stati gli upgrade. Comunque in generale sarà più facile acquisire il tutto, hanno abbassato molti requisiti sia per aprire casse che per expare, oltre al fatto appunto che molti oggetti saranno completamente cambiati. Hanno cambiato anche a livello visivo, soprattutto gli oggetti mitici unici, cioè Uber Unique. Adesso come vedete hanno un glow viola che è completamente diverso da quello arancione degli unici e qui potete vedere che anche le statistiche sono state cambiate. In questo caso ci fanno vedere uno degli oggetti più forti del gioco probabilmente, cioè l'Harleking Crest, e come potrete notare è molto più forte rispetto a quello che era prima. Addirittura ha un 20% di cooldown ed action così di base. Tutto questo ovviamente può essere potenziato dal nuovo crafting che è stato introdotto con l'ultima stagione, quindi immaginate che qui potete fare anche Masterwork e quindi queste statistiche possono essere aumentate molto di più di così e c'è anche 2500 di armor che da solo risolve il problema dell'armor, eccetera eccetera. Quindi se questo è l'Harleking Crest immagino che anche altri unici o Uber Unici saranno molto molto più forti rispetto a quello che era precedentemente. Come detto ci sarà più XP e sarà più facile ottenere XP perché fondamentalmente adesso guadagnate ancora più XP se uccidete nemici fino a 30 livelli più alti di voi, cosa che si faceva facilmente ormai, ma prima il limite era più 10 livelli, dopodiché oltre i 10 livelli non guadagnavate tanto XP in più. Adesso più 30 livelli in più hanno rimantenuto a livello però di stagione i cervelli, come si chiamavano, le gabbie mentali, quelli che vi aumentavano praticamente il livello dei nemici nella marea infernale di 10 livelli e quindi potevate spare di più. Ecco adesso le gabbie mentali, però questa è una cosa solo per il regno stagionale, per aumentare la velocità di XP nella stagione, possono essere staccate fino a tre volte. Quindi potete fare delle maree infernali con i mostri più 30 livelli rispetto al normale e sfruttare chiaramente il nuovo bonus del fatto che fate i nemici che sono più alti di 30 livelli. Quindi in generale sarà estremamente semplice livellare, in particolare penso nella marea infernale. Quindi vi mettete lì, staccate i cervelli, vi fate i nemici molto molto più alti di voi e penso che volate con l'XP, voleremo con l'XP. Poi vabbè ci sono le altre cose tipiche della stagione, come vedete non cambia moltissimo anche a livello di task, layout e tutto quanto, ci saranno ovviamente nuovi estetici, roba estetica se avete il battle pass premium ovviamente, potete sbloccare tutte le cose estetiche e direi basta così. Poi sicuramente il primo agosto, cioè domani, ci diranno qualcosa di più immagino, ci faranno vedere anche in azione altre cose probabilmente, però io credo che a livello di contenuti non ci sarà molto più di questo. Quindi alla fine della fiera cosa c'è di nuovo? Queste orde infernali che vanno sia per la stagione come endgame, sia per il reame eterno. Per la stagione in più ci sono dei dungeon speciali infernali e in più sempre per la stagione c'è la possibilità di avere la bacheca della stagione per sbloccare risorse, oggetti più facilmente, per andare avanti più facilmente. Poi ovviamente ci sono tutte le cose che comunque erano già state implementate nelle stagioni precedenti, come il pit o il gauntlet o tutto quello che c'era prima ovviamente, quindi tutte queste cose che si aggiungono. Secondo me alla fine della fiera è ok, anche perché è una stagione molto breve e il grosso, i grossi grossi cambiamenti che sicuramente riceveremo saranno quelli a ottobre con la patch mega galattica che ci sarà, che sarà in concomitanza con l'espansione, perché vi assicuro, sono sicurissimo, che anche se voi non comprerete l'espansione, il gioco cambierà profondamente da ottobre e con la stagione numero 6. Adesso siamo un antipasto, un antipasto estivo. Bene ragazzi, per questo video è tutto, fatemi sapere quello che volete sotto nei commenti e ne discutiamo. Comunque domani seguirò il campfire e il giorno successivo o in serata, vediamo un po' se ho tempo o se non esco, vi parlerò poi anche di quello che avranno detto nel campfire del primo agosto. Io questa stagione la giocherò, ma con molta moderazione perché non sono super hypato e non ho tutta stavoglia, però un test lo farò. Diciamo che sono più famelico per l'espansione nuova, l'atto nuovo, i grossi cambiamenti che sicuramente arriveranno con l'espansione nuova ad ottobre. Ma per adesso pensiamo all'adesso, quindi fatemi sapere cosa pensate sotto nei commenti e ne parliamo. Noi ci becchiamo comunque prossimamente per altri video qua sempre sul gaming, grazie per l'attenzione, statemi sempre bene e alla prossima. Ciao ciao!